ormai ci siamo mancano pochissimi giorni anzi pochissime ore all'alving di bitcoin l'evento più atteso dalla comunità cripto in questa settimana perché lo stiamo aspettando tutti perché in passato questo evento ha avuto un impatto diretto sull'emissione quindi sulla nuova offerta di bitcoin e ha causato storicamente anche un aumento del suo prezzo nel 2020 cioè nel precedente alving ma anche nel 2016 c'è stata la classica esplosione del prezzo di bitcoin che poi ha portato anche a un alt season nei mesi successivi anzi nell'anno successivo all'alving in passato subito dopo l'alving c'è stata una vendita da parte dei miner che ha portato al crollo del prezzo cosa succederà questa volta anche in questo caso i miner venderanno avremo un calo del prezzo oppure il mercato si comporterà in modo totalmente differente in questo video quindi cerchiamo di fare un breve ripasso sull'alving cerchiamo di capire come funziona e cosa possiamo attenderci da questo evento bene sono tante le cose da dire non solo sull'alving quindi non perdiamo altro tempo bentornati sul canale di webeconomia.it oggi continuiamo finalmente a parlare di bitcoin in particolare parleremo dell'alving che è atteso ormai in questi giorni anzi in queste ore che cos'è l'alving. L'alving di bitcoin è un evento che si verifica periodicamente sulla blockchain di bitcoin quindi è prevista dal protocollo e porta al dimezzamento delle rewards cioè delle ricompense per i miner che si occupano di validare le transazioni. In pratica è previsto all'interno del protocollo di bitcoin e contribuisce ad aumentare la scarsità dei nuovi btc che sono emessi e quindi a diminuire nello stesso tempo l'inflazione. Prima di continuare però metti un bel mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. Andiamo allora a fare un breve riepilogo per cercare di capire che cos'è e come funziona l'alving. Come vedete in questa slide ho sintetizzato il modello di incentivi adottato da bitcoin. Come sapete per validare le transazioni entrano in gioco i miner che tramite i loro calcoli riescono a finalizzare ed aggiungere un blocco alla blockchain di bitcoin. Per farlo ottengono in cambio anzi sono incentivati ad ottenere delle ricompense. Questa ricompensa può essere divisa in due parti una block subsidy ovvero la quantità dei bitcoin coniati in ogni blocco e le commissioni di transazione ovvero le fee pagate dagli utenti. Sommate queste due parti formano la block reward che è in pratica la ricompensa che il miner ottiene. Attualmente la ricompensa per ogni blocco minato come sapete è di circa 6,25 btc e fra pochi giorni i miner come saprete avranno un dimezzamento quindi avranno meno introiti e passeranno a circa 3,125 btc per blocco minato. Avremo poi altri halving successivi fino al 2140 in cui ci saranno praticamente solo le fee cioè la block subsidy andrà a zero bitcoin quindi come vedete anche in questo ciclo è importante parlare delle fee di transazione. Questo dimezzamento delle ricompense va sotto il nome di halving. Vedete qui come funziona questo fenomeno quando è nato bitcoin siamo partiti da circa 50 btc per blocco. L'halving avviene ogni circa 4 anni in particolare nel dettaglio quando vengono estratti quindi minati 210.000 nuovi blocchi. Come vedete in questo countdown mancano ormai pochi giorni e pochi blocchi per raggiungere i 210.000 blocchi minati ecco perché non possiamo dire con esattezza il minuto in cui si verifica ma possiamo comunque fare una stima. Ma perché l'halving avviene ogni quattro anni? Perché in pratica il protocollo di bitcoin è stato costruito affinché venga trovato un nuovo blocco e quindi aggiunto alla chain ogni circa 10 minuti. L'halving quindi non fa altro che dimezzare il tasso di emissione dei nuovi bitcoin rallentando quella che è la crescita dell'offerta totale. Capite bene che questo incide su domanda e offerta. Da una parte si aumenta la scarsità quindi se c'è più domanda ovviamente il prezzo tenderà a salire. Questo è avvenuto fino al precedente halving del 2020 ma che cosa accadrà in questo momento e in questo nuovo halving che stiamo per vivere? Se questi concetti ti sono poco chiari puoi consultare questo video che stai vedendo in questo momento e che ti lascio anche in descrizione in cui ho spiegato proprio come funziona l'halving, cosa è successo in passato e cosa potrebbe accadere in questo momento. Vai a vederlo ovviamente se non sai cos'è l'halving e se vuoi saperne di più anche su cosa succederà dopo il 2140 che è la data di ultima emissione di bitcoin. Non mi dilungo quindi sul funzionamento tecnico dell'halving perché non è l'obiettivo di questo video voglio semplicemente capire insieme a voi se questa volta sarà diverso e cosa succederà. Tornando all'halving vedete che ne abbiamo avuto uno nel 2012 che ha portato a un dimezzamento quindi a 25 bitcoin poi nel 2016 a 12.5 btc e vedete che il prezzo di bitcoin era circa 647 dollari. Nel 2020 il precedente ciclo che tutti conosciamo siamo passati alla ricompensa attuale che è di 6.25 bitcoin con il prezzo che era di circa 8.787 dollari. Fra due giorni avremo il nuovo halving del 2024 con il prezzo di bitcoin che attualmente staziona attorno ai 62-63 mila dollari e passeremo a una ricompensa per blocco a 3.125 bitcoin. Come vedete nel 2140 questa block subsidy si ridurrà a 0 bitcoin e i miner riceveranno soltanto le fee attraverso le quali dovranno autosostenersi. Come vediamo nel grafico il prezzo iniziò a salire partendo proprio dagli 8.700 dollari circa dopo qualche mese per poi arrivare alla cavalcata che tutti conosciamo con bitcoin che raggiunse il suo massimo storico a circa 69 mila dollari nel novembre del 2021. Che succederà in questo halving? Abbiamo capito quindi che l'halving di fatto dimezza le ricompense che i miner ricevono per validare le transazioni all'interno di un blocco. Ricordiamo quindi che il mining non è messo lì a caso nel protocollo ma è semplicemente il meccanismo con cui la sicurezza di bitcoin diventa a tutti gli effetti decentralizzata. La rete di bitcoin ha infatti bisogno di un meccanismo di consenso distribuito e questo viene reso possibile grazie al mining ha il suo meccanismo di incentivi. Come sapete nei cicli precedenti il dimezzamento di queste ricompense ha portato in generale il prezzo di bitcoin a salire nei mesi successivi. Tuttavia sono in molti gli analisti a dire che questa volta sarà diverso, che non ci sono le stesse condizioni e che quindi il prezzo di bitcoin potrebbe comportarsi in maniera diversa. Andiamo allora a vedere quali sono i fattori che potrebbero incidere su questo evento causandone un comportamento differente. Come prima cosa abbiamo una maggiore adozione istituzionale. Negli ultimi anni abbiamo visto infatti un crescente interesse da parte di investitori istituzionali come fondi di investimento, banche e gestione di società patrimoniale, verso bitcoin e le criptovalute in generale. In più non dimentichiamo che l'approvazione degli etf a gennaio ha portato nuova liquidità, quindi nuovi capitali freschi all'interno del mercato. Ricordiamo poi che gli investitori istituzionali tendono ad avere un orizzonte di investimento più lungo rispetto agli investitori al dettaglio, cioè i cosiddetti retail, il che potrebbe tradursi in una minore volatilità dei prezzi durante e dopo il dimezzamento. Numero due, sicuramente una maggiore regolamentazione. Un altro fattore che potrebbe rendere questo ciclo diverso sta sicuramente nel crescente livello di regolamentazione nel settore delle criptovalute in generale, non solo su bitcoin. Molti paesi infatti stanno introducendo dei quadri normativi nuovi per le criptovalute, fornendo maggiore certezza giuridica rispetto a questo tipo di investimento. In Europa specialmente le normative stanno diventando più stringenti, pensiamo ad esempio al MICA che è entrato in vigore nei mesi scorsi. Se prima il mercato era diciamo molto piccolo, oggi l'interesse e la crescita dei capitali in gioco fa drizzare le antenne alle autorità che si occupano di regolamentazione. In più ricordiamo che gli investitori in generale vogliono certezze e garanzie, quindi se non sono oppressive ben vengano queste regolamentazioni. Aspetto numero tre sicuramente la maturità del mercato. Il mercato nel suo complesso infatti sta diventando sempre più maturo rispetto ai precedenti cicli di halving. Ci sono ormai tantissimi strumenti legati a bitcoin, ad esempio abbiamo gli etf per il mercato statunitense, ma non dimentichiamo anche alcuni prodotti regolamentati come gli etp che sono disponibili per gli utenti europei. E poi molto importante l'aspetto numero quattro ovvero l'impatto delle fee di transazione. Per la prima volta rispetto al passato dobbiamo stare più attenti al comportamento dei miners. Le commissioni di transazione infatti iniziano a diventare sempre più rilevanti e lo saranno sempre di più in futuro. Nel 2023 sono arrivate ad esempio le inscription e gli ordinance che hanno contribuito all'aumento di queste fee di transazione e quindi anche ai ricavi dei miners. Qui vedete un grafico di un analytics sull'andamento delle fee relative alle inscription che è comunque in crescita. Non è esponenziale come all'inizio ma comunque sta crescendo e questo è un dato importante per i miners. Ne abbiamo parlato tra l'altro in questo video che stai vedendo in questo momento. In poche parole le inscription consentono di aggiungere dei dati per creare un qualcosa di simile agli nft anche se parliamo comunque di dinamiche molto diverse. In quel caso però parliamo di una numerazione e ordinamento dei satoshi quindi delle dinamiche diverse dalla creazione e il minting dei classici nft. Quello che interessa è che questo fenomeno degli ordinance che non piace sicuramente ai massimalisti di bitcoin ha comunque portato ad un incremento delle fee di transazione facendo felici in molti casi i miner. Pensiamo ad esempio a quel blocco che verrà aggiunto proprio in corrispondenza dell'halving. Se pensiamo al fenomeno degli ordinance ad esempio quei satoshi all'interno del blocco proprio in corrispondenza dell'halving potrebbero diventare unici e rari ed assumere quindi un valore molto elevato. Qui vedete in questo articolo come si parli già della corsa al primo satoshi dopo l'halving che potrebbe addirittura valere un milione di euro. Follia pura. Dal nostro punto di vista questo vuol dire che le fee comunque stanno diventando sempre più importanti e inevitabilmente questo ha portato la rete ad essere più congestionata ma anche più utilizzata. Ricordiamoci però che alcuni miners utilizzano ancora delle infrastrutture obsolete ad esempio gli ASIC che non sono di ultima generazione quindi bisogna tenere conto di queste dinamiche quando si fa una valutazione più ampia. Nonostante questi fattori ovviamente l'halving rimane un evento unico e irripetibile. Non ci sono ovviamente delle garanzie su come risponderà il prezzo di bitcoin e come si comporterà in generale l'intero mercato. Quindi smettiamola di seguire quella narrativa per cui bitcoin debba per forza scendere prima dell'halving per poi risalire e esplodere a livello di prezzo. Questa è una convinzione popolare. L'halving è sicuramente un evento che si verifica in un determinato periodo di tempo ma il ciclo non deve essere per forza quadriennale fisso e il prezzo di bitcoin non deve per forza seguire quello che ha fatto in passato. Soprattutto se consideriamo tutto quello che vi ho detto ad esempio dall'adozione degli etf l'ingresso di nuovi capitali istituzionali insomma tutti questi fattori possono alterare l'equilibrio a cui eravamo abituati finora. Quale impatto quindi può avere l'halving sui miner? L'halving ha conseguenze dirette sui miner infatti la riduzione della ricompensa rende più difficile il cosiddetto breakeven dell'attività di mining però se l'evento porta a un incremento del valore di bitcoin i profitti dei miner ovviamente possono rimanere consistenti. Cosa significa breakeven? Generalmente i miners come sapete sono portati ad accumulare bitcoin nelle fasi pre-halving per poi scaricare subito dopo alcune posizioni. Per essere profittevoli e dunque andare a breakeven il prezzo però di BTC si deve mantenere a un certo livello per non essere in perdita e quindi pagare le spese energetiche dovute ovviamente alla proof of work. Come vedete in questo articolo di Cointelegraph alcune aziende di mining importanti stimano questo livello di breakeven che dovrebbe essere ad esempio per Marathon Digital attorno ai 46 mila dollari. Questo ovviamente presume che le macchine utilizzate siano quelle impiegate attualmente. È una strategia diciamo comune a molte aziende di mining che devono comunque sostenersi e continuare ad investire e dunque solitamente accumulano all'inizio per poi vendere dopo. Naturalmente tutti si aspettano che in questo ciclo tutto andrà come nel passato. Cioè appena scatta l'halving i miner inizieranno subito a vendere il prezzo e nei mesi successivi assisteremo a una crescita del prezzo di bitcoin. Ci sono però come vi ho detto delle cose diverse ad esempio gli etf stanno portando sempre dei nuovi flussi in acquisto e anche dei deflussi per quanto riguarda alcuni gestori. Non dimentichiamo poi che quest'anno il prezzo di bitcoin ha già fatto il suo massimo storico a 73 mila dollari e questo non si era mai verificato in generale prima di un halving. In generale quindi l'halving innesca una reazione a catena con un rallentamento dell'offerta totale dei bitcoin in circolazione. Se l'evento però causa anche un incremento della domanda ecco che allora il prezzo tende a salire. In questo modo i profitti dei miner rimangono costanti e questi riescono ad autosostenersi nonostante diciamo un tasso di emissione di bitcoin minore quindi ricevono meno ricompense ma dall'altra parte il prezzo sale quindi riescono in qualche modo a bilanciare la situazione. Che succede però se il prezzo non aumenta? Rispetto al passato c'è un effetto etf da considerare che può avere effetto comunque sulla domanda. Qui vedete quelli che sono i fondi in gestione ai più grandi etf spot di bitcoin lanciati ad esempio da blackrock, fidelity e tutti gli altri. Stanno continuando comunque i deflussi da grayscale che in questo momento non sono compensati dagli altri gestori. Se andiamo a vedere gli ultimi giorni notiamo che ci sono stati dei deflussi. Dopo una salita ovviamente così forte è normale che ci siano delle prese di profitto. Gli etf non possono salire per sempre. Inoltre vi dico già che le fee a cui stiamo assistendo sicuramente non saranno mantenute in eterno. Dopo una salita così forte del prezzo di bitcoin è comunque normale che ci siano state delle prese di profitto anche dai fondi di gestione. La domanda per quanto riguarda gli etf però potrebbe aumentare nonostante gli ultimi dati negativi. Vedete che nella giornata del 16 continuano ovviamente i deflussi circa 79 milioni di dollari da grayscale che non sono compensati dai due etf di blackrock e fidelity. Nei giorni precedenti abbiamo avuto anche ulteriori deflussi ancora più importanti vedete 110 milioni da gbtc 166 milioni addirittura il giorno del 12 in cui c'è stato anche un dump abbastanza evidente. Come leggiamo in questo articolo di Cointelegraph Marathon Digital ad esempio produce circa 28 btc al giorno quindi si dimezzeranno questi e passeranno a circa 15 o 14 15 nella fase post halving. Potremmo quindi assistere ad uno scarico di centinaia di milioni di dollari sul mercato e probabilmente gli influssi di questi etf non basterebbero a coprire le vendite dei miner quindi non sorprenderebbe vedere nel breve periodo comunque un ulteriore calo di bitcoin almeno nel breve periodo. Non è ovviamente una cosa che durerà per sempre infatti da una parte grayscale o altri etf che vogliono vendere prima o poi finiranno i bitcoin da scaricare sul mercato così come quelli accumulati come riserve dai miner. Questo è quello che sta accadendo in questo momento sul fronte etf ma chi ci dice invece che la domanda proprio degli etf non aumenti proprio dopo l'arvi? Teoricamente questo potrebbe compensare le fuoriuscite dei miner quindi dobbiamo essere vigili e analizzare quelli che sono i dati di mercato. Andiamo un po' a vedere cosa ne pensano gli analisti dell'halving. Storicamente gli halving hanno portato un apprezzamento di btc dovuto comunque agli effetti sull'offerta e la domanda. Molti ritengono questo schema destinato a ripetersi con proiezioni di prezzo che si spingono addirittura tra i 100.000 e 300.000 dollari nei mesi o meglio nell'anno successivo all'halving quindi nel 2025. Stiamo notando però che anche importanti banche d'affari come ad esempio JP Morgan, Citibank e Bernstein hanno rivisto al rialzo i loro target di prezzo bitcoin per i prossimi anni con obiettivi anche sopra i 100.000 dollari. C'è stato dunque un cambio di sentiment rispetto alla diffidenza sulle prospettive delle criptovalute che regnava fino a poco tempo fa. Figure che fino a poco tempo fa snobbavano, criticavano ampiamente le criptovalute ora invece ne lodano il potenziale rivoluzionario e l'importanza di esporsi su questa nuova asset class. In buona sostanza bitcoin piace ora a Wall Street. Ci sono infatti aziende come BlackRock che non vedono alcun problema nell'aggiungere ad esempio l'1% di bitcoin ad alcuni portafogli dei clienti come ha dichiarato recentemente Larry Fink proprio su CNBC. Immaginate quindi cosa vorrebbe dire per bitcoin essere presenti nell'1% del portafoglio di ogni investitore. Maggiori infatti servizi implicano maggiori guadagni per queste aziende. Con la nuova spinta di Wall Street per bitcoin si apre la concreta prospettiva di entrare anche nei portafogli dei fondi pensioni, investitori istituzionali. Già oggi ci sono delle piattaforme come ad esempio Fidelity che fanno qualcosa del genere ma si tratta comunque di iniziative ancora isolate. L'obiettivo infatti di Wall Street è convincere anche i grandi fondi pensione pubblici ad allocare una piccola parte del loro patrimonio in bitcoin e immaginate cosa potrebbe accadere quando questo avverrà. Altri analisti invece sono critici. Qui vedete Peter Schiff, un noto critico di bitcoin e sostenitore del loro che spesso ne mette in discussione il valore di mercato e i casi d'uso nel mondo reale. Schiff infatti evidenzia come molte aziende legate a bitcoin stiano facendo delle performance pessime e disastrose in borsa tra queste ad esempio anche MicroStrategy di Michael Saylor o Coinbase che è quotata comunque sul Nasdaq. Naturalmente sono in molti a criticare questo analista ma è uno di quelli che rimane scettico sulla crescita di bitcoin anche nel lungo periodo. Dell'alving ormai ne parlano tutti. Qui vedete ad esempio un altro tweet di un noto influencer americano molto seguito che dice cose che spesso non condivido ma fa notare in questo tweet interessante che in pochi giorni bitcoin diventerà un asset più scarso del loro. Passeremo quindi da un'inflazione di circa l'1,7% allo 0,8%. Per la prima volta quindi bitcoin avrà un tasso di inflazione inferiore a quello dell'oro e poi sottolinea pochi capiscono questa cosa. Qui vedete ad esempio il tasso attuale di inflazione di bitcoin e come vedete siamo all'1,7% ed è costantemente in calo. Un comportamento che pochi asset diciamo hanno. E poi l'ennesimo articolo che mette a confronto l'oro con bitcoin per quanto riguarda l'inflazione. Molti infatti tendono a confrontare i btc con l'oro seguendo quella classica narrativa di bitcoin come riserva di valore. Fino ad oggi non è stato così infatti bitcoin non è stato una riserva del valore anche se in realtà se prendessimo un'osservazione un periodo di tempo abbastanza lungo bitcoin comunque è aumentato di valore da quando è stato creato. Generalmente anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo l'oro si comporta comunque in modo diverso e bitcoin non si muove certo come protezione contro l'inflazione e comunque in modo decorrelato. A volte è correlato a volte è decorrelato. Per ora secondo me bitcoin e bitcoin non è paragonabile ad altri asset. Su X è comunque possibile trovare questi video di CNBC oppure di Fox News in cui ci sono spesso questi confronti tra bitcoin e l'oro. Di parere neutrale invece il CEO di Crypto.com che afferma che ci potrebbe essere delle vendite in corrispondenza dell'Halving, il classico sell the news che si verifica quando c'è molta volatilità e i trader comunque ne approfittano sfruttando quelli che sono i rumors e testando gli umori di mercato. Ci potrebbe essere un ulteriore calo come quello a cui stiamo assistendo ma l'evento è comunque destinato a sostenere il prezzo e domanda nel lungo termine proprio secondo il CEO di Crypto.com. Quindi come vedete abbiamo dei pareri molto contrastanti anche perché ricordiamo che bitcoin ha già fatto un suo massimo storico prima e dunque non possiamo sapere come si comporterà. Quanto può scendere quindi ancora il prezzo di bitcoin? Rispetto al passato abbiamo già visto un rialzo e un nuovo massimo storico prima di all'Halving, un evento che non era mai successo prima. Per questo motivo secondo Coinbase gli effetti positivi dell'evento potrebbero essere già scontati dal prezzo attuale. Alcuni analisti invece ritengono che i prossimi sei mesi potrebbero essere piuttosto negativi per il prezzo che potrebbe scendere. Un primo target per fine aprile vedete qui è di circa 59 mila dollari. Questo a causa dei miners che dovranno adeguarsi comunque al nuovo regime di ricompense ridotte vendendo parte dei loro bitcoin accumulati con vendite che sono stimate attorno ai 5 miliardi di dollari. Nonostante le aspettative positive è fondamentale comunque considerare anche i possibili eventi negativi cosiddetti cigni neri che potrebbero influenzare negativamente il prezzo di bitcoin. Cos'è il black swan o cigno nero? Un evento imprevedibile e raro che ha un impatto significativo sui mercati pensiamo ad esempio nel 2020 col covid. In caso di bitcoin un potenziale evento di questo tipo potrebbe essere ad esempio l'arrivo di una regolamentazione più restrittiva e questo potrebbe potenzialmente ridurre la domanda e far crollare ancora di più il prezzo di btc. Per avere un'idea più chiara sarà cruciale anche osservare le dinamiche macroeconomiche e geopolitiche in particolare ad esempio se la fed alzerà i tassi più alti del previsto o se le tensioni internazionali causeranno fughe verso i beni rifugio come loro in questo caso anche il prezzo di bitcoin potrebbe finire sotto pressione indipendentemente dall'alving. Quindi sono delle dinamiche che bisogna considerare. Quali sono allora delle possibili strategie di investimento in seguito all'alving? Di fronte a queste incertezze un investitore dovrebbe secondo me adottare delle strategie prudenti. È fondamentale infatti comprendere i rischi e prendere delle decisioni basandosi sulla propria situazione finanziaria e sulla propria tolleranza al rischio. Ovviamente se non siete abituati a questa volatilità vi conviene stare lontani da questo mercato. Puoi ad esempio optare per una strategia di acquisto graduale accumulando bitcoin a intervalli regolari per ridurre l'impatto della volatilità oppure se sei un trader più attivo potresti cercare di sfruttare le fluttuazioni di prezzo nel breve termine. In ogni caso è essenziale mantenere una prospettiva nel lungo termine e non farsi guidare dalle emozioni o dalle speculazioni eccessive. Ovviamente se vi interessa bitcoin come asset di investimento l'alving è un evento che dovete sicuramente monitorare ma comunque non dovreste preoccuparvi eccessivamente. Ti ricordo che tecnicamente l'alving è un evento ciclico e prevedibile ma il suo impatto sui prezzi dipenderà da tanti fattori che potrebbero comunque essere anche difficili da prevedere con precisione. Bene siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo visto che cos'è brevemente l'alving e quale potrebbe essere il suo impatto sul prezzo di bitcoin. Come avete visto dai vari countdown che troviamo in giro sulla rete è ormai questione di ore. Come sapete l'alving storicamente ha portato anche a un aumento anzi un'esplosione del prezzo di bitcoin. Siamo però in una situazione macroeconomica diversa ci sono ad esempio dei conflitti nel mondo abbiamo l'arrivo degli etf che hanno cambiato un po' le dinamiche portando nuova liquidità. Ci sono quindi dei fattori che in passato non c'erano come ad esempio l'inflazione alle stelle negli Stati Uniti e la Fed che ancora non ha deciso di abbassare i tassi di interesse. Tutto questo ci porta a pensare e porta a pensare anche agli analisti che questa volta l'alving potrebbe essere diverso rispetto al passato. Naturalmente nessuno può sapere in anticipo come si muoverà il prezzo di bitcoin. Potrebbe crollare così come potrebbe esplodere tranquillamente. Quindi evitate tutti quei video che vi dicono che il prezzo di bitcoin si muoverà in quel modo. Non c'è alcuna certezza che si comporti esattamente come ha fatto negli altri alving e non c'è alcuna certezza che ci sia effettivamente poi un alt season dopo che il prezzo di bitcoin avrà raggiunto un massimo. Questo si è verificato in passato dopo il raggiungimento di un massimo storico di bitcoin molti capitali si sono riversati sugli altcoin che hanno avuto una fase espansiva. Probabile che ci sia una nuova alt season ma magari vedremo pompare soltanto delle coin che non ci aspettiamo e comunque diverse da quelli dei cicli precedenti. Il mio consiglio quindi è non comprare altcoin a caso sperando che un domani salgano e comunque non dare nulla per scontato. Le condizioni di mercato che stiamo vivendo sono completamente diverse rispetto al passato quindi bisognerà fare delle valutazioni con maggiore attenzione. Fammi sapere ovviamente cosa ne pensi nei commenti. Secondo te bitcoin ripeterà l'andamento storico del precedente halving o in questo caso le condizioni sono diverse. Io come sempre ti invito a iscriverti al canale per supportarci a mettere un bel mi piace e attivare tutte le notifiche per rimanere aggiornato con tutti i prossimi contenuti. Ti ringrazio ovviamente per avermi seguito fino alla fine ti saluto e alla prossima.